Oggi abbiamo affrontato in question time il curioso caso di Francesca Barracciu, invitata prima da Renzi ad abbandonare la candidatura alla presidenza della regione Sardegna per via della sua implicazione nell'inchiesta dedicata all'uso improprio dei fondi ai gruppi consigliari e poi fatta rientrare dalla finestra con la nomina a sottosegretare alla cultura. Riteniamo che questo sia assolutamente inaccettabile. Fu proprio Matteo Renzi che chiese alla Barracciu di fare un passo indietro in merito all'indagine in corso. Questi 33 mila euro che le vengono imputate e gridano vendetta sono 33 mila euro di rimborsi benzina, 33 mila euro che sono state sufficienti per far fare un passo indietro in merito alla candidatura da governatore alla Sardegna della Barracciu, ma non sono servite a quanto pare per bloccare l'incarico da sottosegretario alla cultura. Passate parola.